Il track della Polizia di Stato è arrivato anche a Verbagna per parlare di social e di corretto uso di questi nuovi mezzi con gli studenti. Sì, quest'anno è la sesta edizione di Vita da Social, questa campagna itinerante promossa dalla Polizia di Stato che tocca le principali piazze delle città proprio con l'obiettivo di incontrare le scolaresche e realizzare con loro un momento di riflessione sull'utilizzo consapevole della rete. La rete offre un mondo di opportunità ma al tempo stesso anche di insidie e di rischi, pertanto i ragazzi devono essere consapevoli delle stesse e avere gli strumenti per poterle prevenire e cogliere soltanto gli aspetti positivi e le opportunità che internet e la rete in genere offrono. Quali sono le reazioni? Solitamente lei di studenti ne incontra molti, li trova preparati ad affrontare questo mondo? Sono molto preparati sotto il profilo tecnologico, tant'è vero che vengono chiamati i nativi digitali ma talvolta sono anche molto fragili emotivamente quando poi talvolta si ritrovano dentro a delle situazioni dove se ne esce però qualche volta bisogna attraversare dei percorsi che possono essere un po' dolorosi per loro e allora ecco è proprio per questo perché spesso proprio manca la consapevolezza. Qual è l'impegno della Questura su questi temi? L'impegno della Questura si è sviluppato prima di tutto attraverso molte lezioni sulla legalità che hanno riguardato tutta la provincia dove ormai abbiamo dei nostri poliziotti che penso posso dire che sono diventati degli esperti nella materia dell'educazione alla legalità ma un impegno particolare è proprio quello che riguarda il cyberbullismo. La Questura di Verbania forse è stata una delle prime Questure che ha applicato anche degli ammonimenti a firma del Questore nei confronti proprio di ragazzi che hanno avuto dei comportamenti non legittimi quindi in materia di bullismo.